Emanuele Macaluso è stato un protagonista straordinario della politica siciliana e italiana del secondo dopoguerra sino a qualche anno fa. Proprio qui il Parlamento siciliano, l'Assemblea regionale siciliana ha svolto un ruolo di grande importanza nella rivendicazione della parte migliore dell'autonomia siciliana, quella che vuole innovare, che vuole riformare, di quell'autonomismo che non ha indugiato nell'indipendentismo e che però non si è mai fatto edulcorare dalla politica nazionale. Ed è rimasta sempre una posizione politica che ha pensato non solo ai partiti ma soprattutto alla propria terra, alla propria regione, alla propria Sicilia. E' morto un siciliano importante, lungimirante, resta il suo pensiero, la sua testimonianza, resta il coraggio di guardare avanti a una Sicilia pulita, liberata dalla mafia e che sappia progredire.